Si dissipano le nebbie intorno al porto di Livorno, si tratta però di nebbie antiche. Nella rada del porto, nell'aprile di 31 anni fa, la collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo è avvenuta a causa di una terza nave che appare all'improvviso, la Moby per evitarla, sterza andando addosso al cargo dell'Agip. Così stabilisce la commissione d'inchiesta parlamentare giunta a questa conclusione dopo poco più di un anno di lavoro. La relazione è stata approvata all'unanimità questo giovedì. I lavori sono stati interrotti dallo scioglimento delle camere e la terza nave non è stata individuata, ma la commissione indica a magistratura e al prossimo Parlamento due piste da seguire. Il presidente della commissione, Andrea Romano, evoca la mancata collaborazione dell'Eni, cui è stato chiesto di condividere le conclusioni dell'inchiesta interna. Romano ha rinnovato l'invito. Salutano il risultato i parenti delle vittime che sperano di arrivare finalmente alla verità. La sera del 10 aprile del 91 la visibilità era ottima. Nella collisione morirono 140 persone.